Central Fitness vi aspetta a Verona in via Mameli 124 con tutta la sua vasta gamma di proposte e di corsi, adatti ad ogni esigenza. Siete amanti del cardio fitness? Qui vengono eseguiti tutti gli esercizi durante la fase attiva con il supporto e la competenza di istruttori professionali e preparati. Con l'utilizzo di schede personalizzate a seconda degli obiettivi che vi siete prefissati. Incuriositi dal Pilates? Gli appositi macchinari vi aiuteranno in questa splendida disciplina che stimola la relazione fra corpo e mente. Il Pilates tonifica i muscoli senza gonfiare, insegna ad utilizzare la respirazione in modo efficiente e in relazione al movimento. Migliora la forza, la resistenza fisica e mentale e la postura, aiutando a migliorare la condizione di diverse patologie. Non mancano poi corsi di fisio Pilates e di ginnastica pre e post parto. Da Central Fitness troverete anche corsi posturali di aero Pilates, che vi consentiranno di tonificare e modellare il vostro corpo, unendo l'efficacia di un corso posturale all'attività intensa di un corso di aerobica. I corsi posturali vengono effettuati in gruppo con istruttori professionisti. Vi sono anche corsi posturali di mat walk e stretching della durata di un'ora e mezza, ginnastica dolce, composta da esercizi di mobilitazione e attivazione muscolare, yoga e tango terapia. Dopo tutto questo esercizio, distendete i vostri muscoli nella biosauna al sale. Con una temperatura di 59 gradi centigradi e un'umidità del 55%, è adatta anche alle persone che soffrono di bassa pressione. Ideale per sinusiti, riniti, mal di gola e per godersi un meraviglioso momento di relax. Non mancano poi i solarium con lampade di ultima generazione, l'estetica, i massaggi sportivi, decontratturanti, rilassanti ed energizzanti. Non solo, potrete avvalervi dell'ampia sezione dedicata alla naturopatia, che prevede trattamenti antistress, consulenze di riflessologia plantare, trattamenti corporei, diete psicosomatiche, trattamenti ai fiori di Bach, riequilibrio energetico e test iridologici. Central Fitness vi accoglierà con il proprio bar e zona relax con tisaneria in via Mammeli, 124 Verona.